Presidente Gasparri, incontro all'Aquila con il sindaco Pierluigi Biondi, sul tavolo la presunta crisi comunale tra Forza Italia e l'amministrazione. Come è andata? Ci sono novità? Io sono venuto all'Aquila perché sono stato invitato al congresso regionale del Movimento Cristiano Lavoratori, dove sono intervenuto con il mio amico Di Matteo, presidente nazionale. Quindi non sono venuto all'Aquila per dimere problematiche locali, che tuttavia conosco perché oltre a fare il capogruppo al Senato sono anche responsabile nazionali antilocali di Forza Italia. Mi è sembrato educato, a margine del congresso, come vede che si sta concludendo poco fa, venito a trovare una nuova sede, peraltro, che ho detto di peterla aperta, perché non avevo capito qual era il palazzo, ma era questo storico. Sono venuto a trovare il sindaco Pierluigi Biondi, non abbiamo affrontato praticamente nessuna questione, nel senso che lui è anche responsabile di Autonomie di Fratelli d'Italia. L'ho salutato nella nuova sede, abbiamo parlato del più o del meno, di congresso dell'Anci, di alcune scadenze che ci riguardano come centro-destra nel futuro per vedere come settori antilocali Fratelli d'Italia, Forza Italia e con la Lega Stradigio d'Italia. Dei problemi locali parleranno i dirigenti locali nei prossimi giorni con serenità, perché abbiamo le regionali, dobbiamo governare bene insieme, quindi io solo chiesto, parlatevi tra di voi, così come ho sentito i nostri dirigenti, per trovare poi delle soluzioni, insomma, le più confacenti. Ma non, altrimenti avremmo fatto un'area più allargata. Una battuta su questa stagione di governo, non la prima per lei, però diciamo, la prima di una destra. C'è una stagione nuova perché sono cambiati i numeri e quindi i protagonisti, però Forza Italia che ha fatto nascere con Berlusconi, a quali ho avuto sempre un legame forte, ho fatto parte del primo governo Berlusconi, da qui la mia scelta di proseguire il percorso a un certo punto totalmente accanto a Berlusconi, mi pare che ci sia tonicità, capacità di affrontare un frangente difficile, guerre e conseguenze del Covid, insomma, non è una facile stagione. Tuttavia mi pare che il governo sta incrementando tutti i posti di lavoro. Questa è la cosa più importante. Poi tutto si può fare di più, di meglio, però l'incremento dell'occupazione è un dato che denota una stagione positiva, non sarà solo merito del governo, ma è un dato di fatto. Per il resto, io mi sto occupando in questi giorni della legge di stabilità, penso che l'incremento degli stanziamenti per le forze di polizia, che ho perseguito fortemente, sia molto positivo. Poi adesso vedremo queste decisioni europee. Forse Italia non ha pregiudizi sul MES, ma dice risolviamo tutto insieme. Reduzione dei tassi in interesse della BCE, interventi per una maggiore omogeneità fiscale e bancaria europea, revisione del patto di stabilità. Poi c'è anche il MES, ma parlare solo del MES diventa una forma maniacale. Non abbiamo pregiudizi, ma vorremmo discutere tutte queste cose. Quindi diciamo, facciamo la nostra parte, se non è niente, di fatti torno a occuparmi della legge di stabilità. Le questioni della giunta dell'Aquila la discuteranno gli amici aquilani. Se hanno bisogno di noi, sanno dove trovarci. Per quanto riguarda Forse Italia, ecco, dopo il funerale di Berlusconi forse qualcuno ha fatto i conti un po' troppo presto. No, di fatti abbiamo dimostrato tonicità, presenza, grandi appuntamenti con i giovani a Gaeta, con tutto il partito a Pesto, un po' le elezioni a Monza, con una grande assemblea degli interrogati. Stiamo facendo i congressi, torno in Abruzzo, se ne fa piacere, sabato, a presiedere i congressi di Pescara la mattina, di Chiedi il pomeriggio. C'è tonicità in Forse Italia. Non abbiamo la stagione di grandezza del Cavaliere, nessuno è il Cavaliere, non c'è un Cavaliere dopo il Cavaliere. Ci sono dei fanti che, senza cavallo, però si battono con onore, con numeri diversi da quelle delle stagioni della grandezza berlusconiana, ma ci siamo. E chi pensava che la storia si concludesse con Berlusconi è stato deluso. E noi, in onore di Berlusconi, vogliamo andare col berlusconismo oltre Berlusconi. I numeri poi ce li tirano il lettorato, ma tutti hanno preso atto che con Tagliani, con tutti noi, il nostro partito c'è. Senza isterismi, quindi gli assessori delle cose si discuteranno sui territori. L'importante è esserci.